Schopenhauer è un filosofo inattuale, almeno così lui si definiva, inattuale rispetto al suo tempo. E scriveva, io penso e scrivo per i posteri e non per i miei contemporanei. Questa figura dell'inattualità è interessante perché appartiene sia a Nietzsche che a Freud, che sono stati due grandi schopenhaueriani, perché Nietzsche considera Schopenhauer suo educatore e Freud suo precursore. Anche Nietzsche diceva di sé, mi capirete tra 50 anni, ci abbiamo messo un po' più di tempo, ma poi qualcosa abbiamo capito. E anche Freud si lamentava con tutto l'ordine medico, austriaco e tedesco, perché non accettava le sue teorie. Ecco, l'inattualità è un tratto caratteristico di Schopenhauer, dettato forse dalla tristezza della sua biografia e dalla sfortuna delle sue opere. La sua opera fondamentale, Il mondo come volontà e rappresentazione, ebbe una critica pessima e le coppie del suo libro andarono tutte al macero. Ne presentò una coppia, Goethe, il quale disprezzò il sistema filosofico di Schopenhauer. Ebbe però la fortuna di un riconoscimento da parte dell'Accademia norvegese e successivamente da quella danese. Questo fatto lo indusse a chiedere al suo editore di ristampare il mondo come volontà e rappresentazione. L'editore ha consentito. Schopenhauer ne aggiunse i supplementi a quest'opera, ma anche in questa occasione fu un disastro. L'opera non ebbe nessun seguito e fu messa al macero. Dobbiamo aspettare quando Schopenhauer pubblica Il parerga paralimpomena, che è un'opera in cui riprende tutti i temi del mondo come volontà e rappresentazione, ma le espone in un modo brillante, con dei brevi saggi fulminanti, con degli aforismi veramente pungenti e con delle riflessioni fortemente significative. Quest'opera gli dà un successo enorme. Schopenhauer si crea un mucchio di seguaci e di adoratori, pittori e scultori fanno a gara per ritrarlo e quindi negli ultimi anni della sua vita si gode un meritato riconoscimento, fino a quando muore per una malattia polmonare.